Quante cartelle desideri, Bambolina? Nove. Così ti voglio, decisa. Et voilà! Nove cartelle per la donna dei miei sogni. Il nove mi sono sposata, Barney. Ok, qua può essere giù di tutto il mio crescendo. Fino a Bambolina, ok? Che è un punto esclamativo. Nel senso che proprio la sua mancante di reazioni a te, ok? Fa crescere la temperatura, ovviamente, e quindi diventa una scenana assurda, no? Ok, ti prendiamo un attimo da qua. Ma sono astenia, non ricordi? Sono sempre stata astenia, ecco sempre. Non sono astenia, ok. No. Ma sono astenia, non ricordi? Sono sempre stata astenia, ecco, sempre. Con acqua frizzante, che solletica la lingua. Le labbra, mi prepara la bocca... Vorrei farti arrossire. Prepara la bocca alla passione bruciante. Bruciante. Serto. A me. Però quanto manca a Natale? All'ombra di una palma, con un cocktail non alcolico. Ma se gradisci vedere un po' di neve puoi comprare una chalet. Sai sciare? Quanto manca. Ma hai provato a stare da autunno in un casale tra i vigneti? Un'esperienza unica. Un'atmosfera romantica. Da poesia e folie. Quanto per me. Quanto per me. All'ombra di una palma, con un po' di cartella. Un'atmosfera romantica. Un'atmosfera romantica. Un'atmosfera romantica.